8 punti in 4 partite in trasferta frutto di due vittorie e di altrettanti pareggi. Fuori dalle Muramiche il Gela è un espresso e all'orizzonte c'è un'altra gara da vincere a tutti i costi. Domani i ragazzi allenati dal tecnico Pietro Infantino saranno di scena in Campania contro la Frattese, impegno arduo ma non impossibile assolutamente. I Campani in classifica hanno un distacco di 3 punti nei confronti dei Biancazzurri, dunque faranno di tutto per annullare il gap che li divide dai gelesi. Ma il Gela vuole e deve proseguire nella sua imbattibilità in trasferta. Affrontiamo una gara difficile, una squadra che all'inizio del campionato per gli addetti lavori è la prendente a vincere il campionato stesso, un organico importante. Noi da parte nostra andremo lì a fare la nostra partita come abbiamo fatto fino adesso e cercare di portare a casa punti importanti. Quando il Gela gioca in trasferta riesce a raccogliere punti importanti in casa, soprattutto nelle ultime partite, soltanto un punto. Perché purtroppo in casa come vedete tutti abbiamo delle difficoltà oggettive perché l'avversario viene a Gela per difendersi, rinuncia completamente a giocare, chiude gli spazi ed è complicato se non riesci a sbloccare la partita. Cosa che purtroppo nelle ultime gare interne non siamo riusciti a fare. Gela che può puntare a cosa? No, il Gela deve fare un campionato importante giocando a calcio e poi vedremo quello che riusciremo a fare. Sicuramente sarebbe riduttivo dire che dobbiamo solo salvarci perché Gela come Blasone, come piazza, come tifoseria merita quantomeno un campionato importante. Adesso i numeri non possiamo decifrarli adesso, vedremo già a dicembre cosa abbiamo fatto e cosa saremo in grado di fare fino alla fine del campionato. Solo una rete finora per l'attaccante Maurizio Nassi realizzata a Gragnano, pochissimo per quella che è definita una vera e propria macchina da gol. La macchina da gol non si è inceppata, purtroppo ci sono delle difficoltà perché giochiamo in maniera diversa, ho pochissime, fino adesso ho avuto poche palle gol, qualcuna per sfortuna, qualcuna nell'esecuzione l'ho sbagliata, però non credo di avere fino adesso avuto tantissime palle gol. Sicuramente sto lavorando e stiamo lavorando per cercare di migliorare sottoporta, di migliorare soprattutto il gioco e creare occasioni limpide. Ricominciamo da domani? Io spero proprio di sì perché ovviamente io faccio l'attaccante e a me il gol manca, sinceramente sto male, un gol solo non mi era mai successo in tutte queste giornate di campionato, quindi già da domani io vorrei poter proseguire quello che so fare, cioè il gol è magari un gol pesante.